Caro Greg, tu non sai oggi cosa succederà, oggi c'è la sfida, oggi c'è la sfida ginnasta contro golfista, ai massimali in palestra ha già dimenticato qualcosa ultime fase di riscaldamento, prima delle sfide qua, c'è tensione, c'è molta tensione in giro adesso ci ultimiamo qua e poi ci vediamo tutte le sfide in tutti i macchinari allora la prima prova è in the grip del nostro Greg, vai, attuono, due tentativi, massima forza, vai 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 vai, molla 45.3, tutto, 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 ok attuono, secondo giro di sinistra, vai 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 vai, ok ok ci siamo qua no, non ce l'abbiamo in leg extension siamo a 60 kg ok, vamo, facile, facile, facile Greg andiamo con il 70 vamo, ce l'abbiamo, 80 one shot, ricerca massimali ce l'abbiamo anche questo 25 kg, alla ricerca dei massimali del nostro Greg 25 ce l'abbiamo giusti 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 proviamo il 30 non riesci a rimpostarlo quindi andiamo in leg press al quarto esercizio gambe, bella, questa è una gran bella sfida, sei pronta? pensi di ammazzarlo in questa sfida qua? no, 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 direi che colpista le gambe mea dai, devi mettere come te eh sì ce l'abbiamo, com'è, 80 kg facili noi abbiamo, 612, 120 kg a parte le scuse della ginnasta che le sta prendendo amaramente stamattina si vede dalla faccia anche mangiando 800 pizza il nostro golfista dai concentrato diamo il prossimo test ce n'è più di una facile 2.40 secondo me ne fai più di due andiamo a spingere 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 sfida di panca piana arriviamo in piani bassi lui inizia più o meno col tuo massimo noi abbiamo 20 kg più 20 di bilanciera ecco tu sei in linea spingi un po' avanti quando torni su dai ginnasta vai riscaldamento fatto riscaldamento medio con 30 kg a bilanciere controllo la linea vedi come va basso sotto la schiena ecco 10 10 più 20 di bilanciere totale 40 sono qua dobbiamo mettere ci mettiamo 5 e 5 mettiamo 5 e 5 non te l'aspettavi non te l'aspettavi eh lui fa con un fastidio boia però ci credo di non farci troppo caso la cosa? eh perché è storto il suo eh anche la alta perula ancora è storta quante scuse la ginnasta mamma mia Sì, stessa distanza Vieni avanti Vai, concentrato, movimento lento Andiamo, spinta bene su Respiro Vai, vai, vai C'è ancora una Dai, dai, dai Non spingere avanti, sopra di te Lì Ok Bella Allora, Greg Spira, spira, butta fuori Bravo Vamos Pectoral Scandamento con 20 kg Battito zero Allora 40 kg Di petto Che semplicità Ok E Nasta, cosa c'hai da dire sempre contro tu? Spostati che tu arrivi in pace Spostati che tu arrivi fino qua Mamma mia, che petto C'ha un sorriso che trema, poffa Non ridere tu Non ridere tu Eh, oh Bravo Vamos, chiudi Quante ne facciamo? Che facciamo male questo, eh? Non è che quando faccio l'università Mi hanno avuto le mie allenanze proprio Quindi tu Giocherai il tutto per tutto nelle trazioni contro il golfista Addominare Addominare Non l'ho beccato No Non c'è ancora Sì Non c'è ancora Beh, però deve essere fermato troppo Dai, su, forza, dai Una Due Una Una basta Hai 50 kg Aia, toglia la pepa Aia, toglia la pepa Aia, toglia Non si muove Non si muove Non si muove Te l'ha bloccata Dai, spingi Vai, 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 vai BAM Grande Dos Sensazioni? Ne abbiamo Insieme Spingi Spingi Andiamo via Addominare Ginnastic style non ce n'è più l'impugnatura io direi che la sfida di oggi l'ha vinta golf contro ginnasta ma proprio forse una prova dove le giocavate due vabbè se poi dobbiamo mettere nel gioco anche lo stretching e quant'altro o la definizione del muscolo bene 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 quindi ci saranno altre sfide allora io ti dico già cosa sarà una sfida sarà Greg allo Zero Gravity Zero Gravity è la palestra e ovviamente poi l'altra sfida è Chiara nel campo da golf ma è il punto che se no meglio al campo da golf che in palestra meglio al campo da golf che in palestra questo lo dirà poi Greg ci penserà lui allora che tu hai già avuto lezioni private da palestra esatto tutte le poche volte che ho giocato a golf ho fatto lezioni private che non prendi che in palestra Grazie per la visione